Se avvicina il calciomercato, anche se l'Avellino è concentratissimo sulle ultime due gare dell'anno, l'ultima del girone di andata contro il Foggia è la prima del girone di ritorno in casa del Campo Basso il 22 di dicembre. Affari spenti, è ovvio che la società sia già lavorando per rinforzare la Rosa, sondando il terreno con diversi profili che come priorità rappresentano gli esterni d'attacco, al momento solo tre i komikoschi ancora inespresso. Due pedine dovrebbero arrivare in quella zona del campo ed una delle due potrebbe considerarsi sicuramente un colpo perché la società non si tirerà indietro da eventuali investimenti. Ma è il capitolo uscite ad essere il più incerto, l'Avellino non sarà un supermarket e non smantellerà, ma è chiaro che Mastalli non può essere soddisfatto del minutaggio, che ha lo Ievdangelo sono in scadenza e se dovessero arrivare corteggiamenti importanti se ne parlerà. Stesso discorso per Fabio Tito, con un accordo piuttosto lontano al momento per il rinnovo, mentre per Silvestri ci siamo quasi con una lieve differenza tra domanda ed offerta. Ma a proposito di cessioni, da valutare il futuro di Sbraga con uno scognamiglio in ripresa è quello di Rizzo che vorrebbe spazio essendo un classe 99. Davanti è probabile l'uscita anche di tre elementi, Messina su tutti, sul quale non ci sono dubbi, ma Plescia potrebbe andare in prestito a giocare di più per provare ad esplodere, mentre Gagliano potrebbe così restare come ritornare al Cagliari. In quel caso servirebbe l'intervento in avanti con un ingaggio di una prima punta che possa fare da vicemaniero. È ancora prematuro, ma si comincia a delineare quello che potrebbe essere il mercato di riparazione. Le occasioni ovviamente saranno dietro l'angolo giorno per giorno, senza dimenticare che la lista dell'Avellino è bloccata e tante potranno essere le entrate quanto saranno le uscite.